Noi siamo, pur essendo una provincia così piccola, la terza in Gambania per fenomeni di bullismo. E quindi iniziative come queste che noi stiamo facendo in tutta la regione con il Corecom, che lavora insieme con la Gcom in maniera puntuale sull'informazione, sulla formazione e sulla prevenzione, credo che siano dei segnali importanti per i ragazzi, perché avere la capacità di riflettere su quello che accade, avere la capacità di essere accoglienti, di non usare elementi di violenza sugli altri, è un segno di maturità, di crescita. Chi fa il bullo lo fa perché è una persona che non vive serenamente la propria dimensione amicale in un contesto anche scolastico.